ed eccoci al secondo grande lancio da parte di oppo per il mercato italiano sto parlando della nuova serie reno 10 che è ufficiale da circa una settimana e infatti sto provando da più di una settimana questo oppo reno 10 pro che è lo smartphone più carrozzato che l'azienda cinese porta in italia c'è anche oppo reno 10 che costa un po di meno e che in parte potrebbe risultare anche più interessante di questo modello comunque qui c'è molte cose da dire anche riguardo l'azienda stessa dunque non perdiamoci in chiacchiere lasciate un bel like supportarci e iniziamo partiamo con l'inquadrare il prodotto che si orienta sul mercato su una fascia di prezzo medio alta ma non così alta come succedeva in passato proprio per questa famiglia dove si erano raggiunti con oppo reno 8 pro cifre veramente molto molto alte vicino ai 900 euro qui siamo decisamente più bassi ma vediamolo esteticamente che di fatto non si discossa troppo da ciò che offre il mercato proprio in questi giorni ho provato altri smartphone di altre case molto molto simili a questo sul retro c'è un vetro leggermente satinato piacevole al tatto ma estremamente scivoloso sul fronte i bordi laterali sono curvi il frame invece apparentemente è plastica e tutto sommato è uno smartphone che si fa tenere abbastanza bene in mano infatti è molto sottile 7,89 mm e decisamente anche poco pesante non supera di fatto i 186 grammi di peso proprio sul fronte c'è uno dei suoi principali pregi ovvero il display che è assolutamente di qualità è di tipo amoled da 6,7 pollici con risoluzione full hd plus refresh rate 120 hertz e la possibilità di variare anche questo refresh rate direttamente nelle impostazioni la luminosità di picco di 1400 nits che è più che sufficiente per una buona visibilità sotto la diretta luce del sole nota dolente invece proprio per completare l'aspetto multimediale l'audio dove anche su questo smartphone inspiegabilmente è di tipo mono fuoriesce solamente lo speaker principale e non anche dalla capsula auricolare non l'ho ancora provato ma pare che invece l'oppo reno 10 abbia lo speaker stereo oppo ha invertito probabilmente questa specifica davvero un gran peccato l'audio è sì buono diciamo discreto non particolarmente ovviamente avvolgente e non particolarmente di qualità dunque paio di cui filtro wireless potrebbe servire per soppiantare a questa piccola mancanza buono invece il feedback di vibrazione ottimo invece sensore di impronte digitali sotto al display che è rapido reattivo è di tipo ottico ma funziona bene sul mercato arriva con android i 13 e interfaccia grafica color os 13.1 in termini di aggiornamenti oppo garantisce due giorni di android e quattro anni di patch di sicurezza dunque non lo stesso supporto della serie find che se vi ricordate a inizio anno proprio oppo ha annunciato di estendere il supporto a ben cinque anni di patch sicurezza e tre o quattro anni di aggiornamenti di android addirittura lato software non ci sono novità rispetto alla classica interfaccia grafica di oppo contenente tutte le varie funzionalità aggiuntive come ad esempio il multi screen connect per andare a collegare lo smartphone con monitor o altri o il computer ad esempio ci sono poi tutte le varie impostazioni in caratteristiche speciali per andare ad agevolare l'utilizzo dello smartphone mentre novità in negativo che mai mi sarei aspettato da oppo la presenza maggiore di blocware non parlo di applicazioni utili ma proprio di giochi superflui ce ne sono tantissimi che si installano automaticamente che poi bisogna andare lì ad installare una ad una non un grave problema si possono installare però non proprio bellissimo da vedere scontato dirlo il software gira fluido e reattivo non solo per la parte hardware che adesso vediamo ma ovviamente per questa interfaccia grafica che fa della fluidità e della reattività uno dei suoi principali punti di forza da sempre per quanto riguarda le specifiche tecniche oppo reno 10 pro cambia rispetto al modello asiatico quindi attenzione a leggere le schede tecniche corrette infatti nel modello italiano comunque europeo arriva con snapdragon 778 g un ottimo processore però ormai non proprio recente ecco mettiamola così io lo apprezzo perché comunque performance offre delle specifiche tecniche comunque avanzate però oppo sicuramente poteva optare per qualcosa di più recente non dico una snapdragon 7 gen 2 ma almeno una snapdragon 7 gen 1 però è affiancato da 12 gigabyte di ram e 256 gigabyte di memoria interna non espandibile tramite micro sd però più che soddisfacente per foto video e applicazioni e quant'altro ovviamente si comporta molto bene anche in gaming non scalda particolarmente anche se in alcune situazioni l'ho sentito leggermente più caldo ma ovviamente la stagione non aiuta riguardo ricezione connettività in maniera perfettamente in media rispetto agli altri smartphone della casa di oppo quindi molto similarmente anche a quelli di samsung ovvero prende bene ma non è né il top né da scartare quando parliamo di oppo però due sono gli aspetti principali che risaltano subito ovvero comparto fotografico da una parte batteria e ricarica rapida dall'altra entrambi ci sono su questo oppo reno 10 pro lo vediamo passiamo dunque al comparto fotografico 50 megapixel più 32 megapixel teleobiettivo 2x più 8 megapixel ultra grandangolare sul fronte fotocamera da 32 megapixel è uno smartphone che in tutto e per tutto è pensato per fare degli ottimi ritratti è la sua peculiarità e infatti li fa davvero molto molto bene si attiva appena arriviamo al 2x di ingrandimento sulla fotocamera oppure utilizzando la relativa modalità ritratto sulla fotocamera poi risulta anche un 5x che è semplicemente una interpolazione sul sensore in termini di qualità questo è sicuramente il suo principale pregio un buon comparto fotografico che riesce a garantire una qualità elevata sia in condizioni di ottima luminosità ma anche condizioni di scarsa luminosità quello che soffre di più ovviamente come sempre e come nella famiglia precedente è la fotocamera ultra grandangolare che essendo da 8 megapixel va a perdere molto dettaglio ancora di più quando la luce ambientale è scarsa però devo dire che la modalità notte di oppo lavora comunque abbastanza bene soprattutto sugli altri due sensori in ambito video può registrare fino a 4k 30 fps oppure a 60 fps fino a 1080p ma in 4k proprio a 30 fps è possibile passare da un sensore all'altro durante la registrazione video che non sono male soprattutto col sensore principale che è stabilizzato otticamente e per quanto riguarda la qualità siamo molto vicini per quanto detto alle foto all'interno di questo corpicino 4.600 mAh di batteria con ricarica rapida 80 watt anche qui piccola differenza rispetto modello cinese che invece offre una 100 watt di ricarica diciamo di velocità massima di ricarica batteria più che soddisfacente copre assolutamente la giornata arriva a oltre 5 ore di schermo acceso di utilizzo attivo questo grazie probabilmente al processore che già conosciamo e si è comportato sempre bene anche su tanti altri smartphone sicuramente positivo anche dal punto di vista software che non è praticamente energivolo o pesante veniamo dunque al prezzo e c'è una buona notizia ovvero che oppo lo sconta al lancio anche questa è una cosa che oppo non ha fatto spesso in passato il suo prezzo di listino è 649,99 euro indubbiamente alto per il set di specifiche tecniche anche perché è vero che costa molto di meno rispetto a un oppo reno 8 pro ma è anche vero che l'altro specifiche tecniche è inferiore ad esempio non c'è il mare silicon x o y e il per quanto riguarda il processore è un pochettino più di fascia media che di fascia top e quindi insomma è semplicemente ritarato tuttavia al lancio c'è una promozione sia per chi l'acquista su amazon che su oppo store che su operatore riguardo il primo il prezzo arriva a 585 euro e comprende anche diversi regali ovvero oppo enco air 3 pro oppo band 2 e una cover protettiva in aggiunta a due supporti per auto chi l'acquista invece da oppo store ha in aggiunta tutto ciò che vi ho detto anche una copertura un'assistenza una garanzia aggiuntiva di sei mesi per lo schermo il 16 luglio però è la data ultima perché dal 17 il prezzo tornerà a 649 euro e resterà semplicemente un regalo ovvero un supporto per auto se dunque lo smartphone che vi ha convinto il mio consiglio è quello di acquistarlo subito quando c'è questa promozione soprattutto se vi siete interessati anche agli altri prodotti di ecosistema oppo che vengono forniti in regalo in quel caso la promo è veramente allettante e al netto di questo invece riguardo il prezzo di listino lo reputo un po troppo alto anche a luce del fatto che oppo find x5 che non è uscito ieri però comunque è ancora un ex top di gamma ancora molto attuale è stato ripiazzato a 599 euro che diciamo lo risulta essere più allettante da valutarlo per un acquisto peccato solo che quest'ultimo non abbia un supporto software duraturo come ad esempio app find oppo find n2 flip ma che a breve entro un paio d'anni sicuramente verrà abbandonato detto ciò questo era tutto ciò che voglio dirvi sul riguardo oppo reno 10 pro un'azienda che sta un po cambiando mi pare connotati mettiamola così vedremo cosa offrirà in futuro che cosa modificherà vedremo soprattutto però il oppo reno 10 che secondo me risulta ancor più allettante di questo prodotto anche per il rapporto qualità prezzo più invitante oltre che allettante ovviamente ma questo è tutto ciò che voglio dirvi riguardo oppo reno 10 pro dato un occhio anche a oppo reno 10 che a mio avviso leggendo le specifiche non provandola ancora potrebbe essere ancor più appetibile se volete risparmiare un pochetto chissà magari presto ci faremo la recensione lasciate un bel like se questo video vi è piaciuto e iscrivete al canale per imparare i prossimi contenuti io sono mica che noi ci vediamo prossimo video ciao